Sce, sce, senti. Stanno scappando? No, stanno volando, si stanno mangiando gli insetti. Che schife? Non lo mangio. Come noi mangiamo il maniale? Che c'è? Che bello, che belle creature ci sono dal mondo. È vero. Questa è proprio una danza, uno spettacolo per me. Perché? Guarda come lavorano. Lo fanno. Lo sai che certe volte in gruppi dicono ai maschi, a certi maschi, ai loro fidanzati e facciamo uno spettacolo e i maschi lo dicono ai loro amici maschi e lo fanno. Ho capito. Perché spariscono? Come spariscono? Vedi che vanno sotto il tetto? Lì c'hanno i loro niti. Che coloro? Il nito con la loro casetta. No, questa era la cosa più bella. No, si sono tuffate tutte insieme. Guarda, sono tutta la mia adesso. Guarda come si è buttata questa. Girando. Ok, stop. Perché? Certinario. Perchè? Perchè? Perchè?